Ciao a tutti, io sono Roberta Stefanelli, sono un'assignista di ricerca in neuroscienze e sono una biologa molecolare. Nel mio gruppo di ricerca, ovvero il gruppo della professoressa Maria Teresa Fiorenza, lavoriamo sulla malattia di Niman-Pick, che è una malattia genetica rara, che è progressivamente neurodegenerativa e colpisce principalmente il cervelletto. Questo comporta nei pazienti dei problemi a livello motorio, come per esempio atassia, distonia, oppure problemi nei movimenti più semplici oculari, ma anche problemi psichici, come per esempio la presenza di psicosi, allucinazioni o anche comportamenti aggressivi durante l'età infantile e adolescenziale. Quindi capite bene che è una malattia estremamente debilitante e soprattutto è una malattia fatale. Essendo una malattia genetica, questa è causata dalla mancata funzione di una proteina, la proteina NPC1, che si occupa del trasporto del colesterolo a livello intracellulare. Questo significa che non solo è importante a livello metabolico per la cellula, ma soprattutto va ad inficiare, a regolare quella che è la formazione delle membrane plasmatiche delle cellule. E questo nel cervello è estremamente importante perché, come sappiamo, il cervello è formato dalle cellule fondamentali che sono appunto i neuroni. Infatti il colesterolo è importante non solo per la formazione della cellula stessa neuronale, ma anche per le interazioni cellula-cellula, quindi neurone-neurone e del neurone con altre cellule del cervello che sono appunto le cellule gliali. Nel nostro laboratorio ci occupiamo di studiare gli stadi presintomatici della malattia, quindi quando ancora la malattia non è presente appunto in forma sintomatica a livello del cervello e la nostra ambizione è quella di trovare dei target molecolari che possano essere utilizzati in futuro per ridurre la progressione della malattia o alleviare appunto le condizioni del paziente. In particolare io studio un compartimento del cervello, ovviamente noi ci avvaliamo di modelli di topo per studiare la malattia, questi modelli di topo sono dei modelli transgenici che mimano la malattia che è presente all'interno della nostra specie e io studio un compartimento in particolare che è quello del bulbo olfattivo ed è molto importante perché è la sede dove le molecole olfattive chimiche vengono trasformate per il cervello in informazione sensoriale e inoltre è anche uno dei primi, diciamo, la perdita di olfatto, la perdita di discriminazione dell'olfatto è anche uno dei primi piccoli segnali nelle malattie neurodegenerative e in particolare io mi occupo dello studio dell'interazione in questo ambito tra i neuroni e gli astrociti e la caratterizzazione di un particolare tipo di astrocita che sono gli astrociti infiammatori, cosiddetti infiammatori, ovvero un tipo di astrociti che invece di proteggere la funzione neuronale va ad inficiarla e quindi ad aumentare quello che è il processo di neurodegenerazione nel soggetto, in questo caso nel bulbo olfattivo dei nostri topi.